Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno più vino e Gesù rispose che ho da fare con te o donna non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi fate quello che vi dirà. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro riempite d'acqua le giare e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono e come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino il maestro di tavola che non sapeva di dove venisse ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua chiamò lo sposo e gli disse tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.